Buonasera a Tadamo Aversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio, un chilometro di code in A1 dopo un incidente siamo tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma, mentre in direzione Firenze sempre in A1, un veicolo in avaria tra Chiusi Chianciano e Valdichiana. Altro veicolo in difficoltà sulla Firenze-Pisa-Livorno allo svincolo Empoli-Est. Torniamo in A1, segnalate code per traffico intenso all'uscita di Firenze-Sud provenendo da Bologna. Il traffico è ancora intenso sui viali di circonvallazione a Firenze in entrata e in uscita a città. Infine ricordo sulla vista iberina, la E45 dal 1 novembre è obbligatoria la dotazione invernale con catene a bordo o gomme termiche. È tutto muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Un viaggio a più tardi!